Il 25 settembre 2018 il primo vicepresidente della Repubblica dell'Azerbaijano ha svolto una visita ufficiale in Italia. Inaugurando una serie di appuntamenti il primo vicepresidente ha incontrato il presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati presso Palazzo Giustiniani. Le parti hanno avuto occasione di scambiare opinioni sulle ottime relazioni esistenti tra Italia ed Azerbaijan anche a livello interparlamentare oltre che politico in generale, economico, commerciale e culturale e nel settore della formazione. Nel Parlamento del Regano in particolare fu garantito una piena rappresentanza alle minorane. La visita in Italia del primo vicepresidente ha coinciso con l'omaggio al centesimo anniversario della Repubblica Democratica dell'Azerbaijan. L'incontro tra la Casellati e la Lieva ha preceduto infatti l'apertura del convegno centesimo anniversario della proclamazione della Repubblica Democratica dell'Azerbaijan e rapporti di partenerato strategico tra Italia e Azerbaijan, ospidato nell'incantevole cornice della Sala Zucca di Palazzo Giustiniani. La conferenza è stata aperta dai saluti istituzionali dello stesso presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati che ha sottolineato il ruolo dell'avanguardia della Repubblica Democratica dell'Azerbaijan che già nel 1918 concesse il diritto di voto alle donne insieme ad una piena rappresentanza delle minoranze. Ha poi ribadito davanti al numeroso pubblico i forti legami tra Italia e Azerbaijan, già evidenziati dal presidente Sergio Mattarella durante la sua visita di luglio. Non sono mancati richiame ai legami economici alla rilevanza del corridoio mediano del gas, così come alle attività della fondazione Eidar Alev guidata dalla signora Mary Banaliva per rafforzare i rapporti tra Italia e Azerbaijan nel settore culturale. E poi intervenuto il primo vicepresidente Alieva che ha ripercorso le tappe storiche che hanno portato alla nascita della Repubblica Democratica dell'Azerbaijan e evidenziato come i suoi fondatori abbiano un ruolo di primo piano nella storia dell'Azerbaijan. Richiame anche al dinamismo economico del paese, ai suoi ottimi rapporti con l'Italia e ogni settore e all'importanza storica della visita del presidente Sergio Mattarella nello scorso luglio. Il primo vicepresidente ha poi ricordato l'aggressione dell'Armenia contro l'Azerbaijan che prosegue da oltre 25 anni, auspicando l'aiuto internazionale per la soluzione pacifica del conflitto nel Nagorno-Karabakh tra Armenia e Azerbaijan, in particolare dell'Italia come presidente in carica dell'OSCE. La presidente del Senato Casellati ha poi offerto una colazione in onore del primo vicepresidente presso gli appartamenti di rappresentanza di Palazzo Giustiniani. La giornata si è conclusa con una cena di gala presso la Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea. In una location eccezionale, gli oltre 200 ospiti sono stati salutati dal primo vicepresidente Presidente Meri Banaleva e per il governo italiano dal ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria. Entrambi gli interventi hanno messo in luce l'impronta lasciata alla Repubblica Democratica dell'Azerbaijan, il ruolo moderno dell'Azerbaijan come ponte tra Oriente e Occidente e i successi ottenuti da ripristino l'indipendenza del 1991 e le ottime relazioni esistenti tra Italia e l'Azerbaijan, aperte ad ulteriori futuri sviluppi. E' stato inoltre mostrato al pubblico un documentario sulla storia della Repubblica Democratica dell'Azerbaijan e della sua eredità dell'Azerbaijan moderno. Gli ospiti hanno potuto poi assaporare la cultura e l'arte azerbaijana attraverso la cucina tradizionale grazie ai piatti tipici preparati per l'occasione da un team di chef azerbaijani e attraverso la musica nazionale di un famoso gruppo di musicisti azerbaijani accompagnati da strumenti tradizionali. Nella sala attigo a ricevimento per l'occasione è stata allestita anche un'interessantissima mostra sulla Repubblica Democratica dell'Azerbaijan e la sua storia e il suo patrimonio. La visita in Italia al vicepresidente si è conclusa con una colazione di lavoro con il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella in Quirinale. Durante l'incontro le parti hanno discusso gli ottimi rapporti esistenti tra l'Azerbaijan e l'Italia in tutti i campi e la cui manifestazione è stata confermata dalla visita di Stato del Presidente Sergio Mattarella in Azerbaijan lo scorso luglio e dalla visita attuale. L'incontro si è concentrato sulla partnership strategica dei due paesi, le attività svolte dalla Fondazione Eida Realev nello sviluppo e nella collaborazione bilaterale e nell'avvicinamento dei due popoli così come prospettive e opportunità per un approfondimento ulteriore dei rapporti. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti